Imra progetta e fornisce ascensori, montacarichi, elevatori in genere, impianti e ausili per diversamente abili con un servizio di assistenza 24 ore su 24. Nicolas Bubas è da ieri un nuovo giocatore della Capese. L'argentino di 31 anni giunge infatti con la formula del prestito dalla Juve Stabia, dove era poco utilizzato. In 13 presenze è riuscito a segnare solo un gol con i giallo-blu e ha giocato dal primo minuto solo in 5 occasioni. A Cava, dove raggiunge Salvatore Campilongo oggi pomeriggio, Bubas punterà ad acquisire ancora maggior minutaggio. Prima di passare alla Juve Stabia, il centravanti aveva trascorso 4 annate alla Vibonese, dove ha avuto anche Campilongo come tecnico e precedentemente aveva giocato in Argentina, in Bolivia e in Venezuela. Attaccante dinamico, Bubas potrebbe essere paragonato a Germinale per il fiero Cipiglio in campo e in carriera ha fatto anche gol di testa, come questo che vedete contro l'assicula Leonzio, di destro ed è anche un rigorista. Può giocare al centro, ma anche più spostato a sinistra. E da quando gioca in Italia ne ha realizzati in tutto 32. Dopo Bubas, la Cavese proverà a prendere a questo punto un altro attaccante. C'era la pista Ebaguà che era stata seguita, comunque il tipo di giocatore che ancora serve è un punto di riferimento nel reparto avanzato. La società dovrebbe provare a prendere anche due difensori e in tale reparto si stanno sondando più piste. Ora, per poter inserire nella lista eventuali nuovi rinforzi, sarebbe necessario togliere qualcuno. Ma questo è un periodo in cui comunque la Cavese sta preparando una difficile gara casalinga contro il Palermo, squadra molto forte nelle ripartenze. Quindi i biancoblu si allenano appreggiato agli ordini di Campilongo e il presidente Massimiliano Santoriello, attraverso i canali ufficiali del club, ha chiesto a tutta la squadra di restare concentrata solo sulla partita con i siciliani. In questo momento stiamo lavorando per rinforzare la rosa della Cavese e per renderla più competitiva, ha dichiarato Santoriello. Ci sarà bisogno dell'apporto di tutti. Al momento, quindi, non pensiamo alle cessioni, ma a offrire a mister Campilongo quante più scelte possibili per raggiungere quanto prima la salvezza. Sabato c'è il Palermo e siamo tutti chiamati a dare di più. Una Cavese che occupa l'ultimo posto in Serie C, anche se nelle ultime giornate non ha fatto talmente male da meritarlo, ma sono stati persi troppi punti nella fase iniziale del campionato, per cui bisogna rimontare.